Il Castellazzo Il Castellazzo, abbiamo una piccola canina nel senso che le ragazze hanno vinto sono diventate le campioni italiane dell'anno 14 sono arrivati dal primo anno dell'anno 16 sono arrivati in finale il maestro è Tombolini vuole un po' una sua ragazza e poi stanno giocando all'A1 perché noi abbiamo deciso di fare tutto in casa e non avere nessuno che non sia del circo ovviamente nell'A1 non lo buscano però si difendono molto bene domenica cercheranno ancora Grazie E' stato un piacere veramente avere due applausi 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 Comune di Palma, Bar Sport questa iniziativa che secondo me merita successo io ero un pochino preoccupato quando ho visto la prima performance ho detto come si fa a restare sullo stesso livello quindi sono convinto che quelli dopo che gli interventi che sono previsti per stasera per domani, per domani sono di grandissimo livello quindi auguro le migliori fortune a questa iniziativa che sono sicuro che sarà la prima di molte sono contento di essere stato qui a pattezzarla in certo senso insieme a Raffaele e a tutti quanti grazie di scuola grazie un invito domenica al castellato c'è la serie 1 ci sono le ragazze di cui parlavamo se è egresso e libero se venite tutti chiamate degli altri se fate un favore grazie 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 grazie